Asso 2 e 3 e arriva fino in cima di fatto da qui il 3 può dirigere tutta quanta la baracca il 2 invece lavora ai piani più bassi però arriva con il suo bel elicottero parcheggia sull'attico prendi l'ascensore e arriva giù in segreteria l'asso invece svolge un ruolo molto particolare di fatto non lavora né ai piani alti né ai piani bassi dell'edificio ma lavora sì al centro ma all'esterno di fatto come potete ben vedere lui svolge la mansione di lavavetri parte dal fondo del palazzo e lo risale tutto quanto col paranchino dall'esterno e ovviamente arriva anche lui in cima no, deve essere successo un guasto all'ascensore, meno male che c'è lui il 3 di cuore, il nostro tecnico degli ascensori di fatto basta fare così che l'asso torna in cima però vi voglio svelare un segreto il nostro 3 di cuore non ripara solo gli ascensori ma ha anche inventato l'ascensore supersonico infatti basta aspettare che l'asso 2 e 3 risalgono sui rispettivi piani talmente veloci da lasciare sotto solo le loro ombre grazie a tutti Grazie a tutti.